Nuova vita per gli oggetti e interessanti occasioni per il consumatore. È il mercatino dei Gaudenti, molto più di un mercatino dell'usato. Quello che forse non tutti sanno è che deve il nome ad un piccolo vicolo della città. Ciò che invece è noto è che al mercatino dei Gaudenti, cerca che ti cerca, anche gli oggetti apparentemente introvabili, quelli più unici che rari, talvolta saltano fuori. Sorto su impulso dell'Associazione Culturale Arteria, è diventato un appuntamento ormai fisso per abitanti e turisti. Che piova o che ci sia il sole, il secondo sabato del mese, un salto tra le bancarelle per molti e tappa consueta. A fare bella mostra di sé, speranzosi in una seconda vita, abiti, vinili, mobili, oggetti d'artigianato, pezzi da collezione. Testimoni silenziosi di decine di avventure, storie, hobby e passioni. Il mercatino nasce nell'aprile del 1996 e ha sempre visto la sua collocazione all'interno della cornice di Piazza Garzetti. A partire con la fine del 2010, in collaborazione sempre con il comune all'interno del progetto Anima Dante, verranno effettuate tre edizioni speciali del mercatino dei Gaudenti in Piazza Dante. Un raddoppio quello di scena durante i mesi di settembre, ottobre e novembre, volto come sentito a vivacizzare uno dei più bei parchi della città ed accolto con entusiasmo dai fedelissimi del mercatino dei Gaudenti. Un'iniziativa nata per aiutare i privati cittadini, collezionisti, artisti e artigiani hobbysti a vendere o scambiare la propria marcia, 150 più o meno gli espositori, ben presto trasformatasi in occasione di incontro, confronto, conoscenza.